Il miele prodotto in Italia resta il migliore e anche il più sicuro, non lo dice uno spot pubblicitario, ma è quanto si evince dalle riflessioni del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Savona, alla luce delle recenti normative europee. D'ora in poi, infatti, sulle confezioni di miele in vendita, anche in Italia, non sarà più necessario indicare in etichetta la presenza di polline contaminato o GM. In pratica, spiega Luca Medini, direttore di Labcam SRL, Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Savona, il polline è considerato una componente naturale specifica del miele e non un ingrediente e per questo non va indicato in etichetta. Secondo alcune associazioni agricole, il rischio che nel miele italiano si vadano a creare miscele con pollini trasgenici, visto che nel 2013 è aumentato del 29% l'importazione dalla Cina, dove sono diffuse le coltivazioni geneticamente modificate. Se però il miele è interamente prodotto in Italia, dove è assolutamente vietato coltivare OGM, il problema non sussiste. Il miele prodotto sul territorio nazionale è riconoscibile attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria, che a questo punto diventa ancor più una garanzia di qualità, anche se è bene dire che ad oggi non sono stati provati i rischi per la salute dal consumo di cibi geneticamente modificati.